Ci troviamo nel supercondominio Gaia in via regione siciliana da Grigento e in questa palazzina alle mie spalle venerdì mattina sono state evacuate sette famiglie e chiusi due studi professionali. E' lo scenario che si presenta all'interno del supercondominio Gaia, sito in via regione siciliana da Grigento, interessato dallo scorso 25 febbraio da lavori e scavi di ripristino della rete fognaria comunale da parte di Girgentiacque. Un annoso problema che per anni ha provocato disagio agli inquilini del complesso abitativo, aree irrespirabili in alcuni periodi dell'anno e sversamento di liquamine e periodi di pioggia intense che hanno invaso le cisterne di acqua ad uso dei condomini del complesso abitativo e del palazzo adiacente. E' successo che sono stati chiamati di urgenza la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani. Sono arrivati tutti però ancora oggi da venerdì siamo senza gas e senza luce. Io non riesco a capire come mai l'amministrazione comunale, la prefettura, gli enti preposti, non vi è nessun segno di nessuno. Si è saputo solamente che sei anni fa si sono fatte queste case qua in via regione siciliana e la fognatura doveva passare dall'esterno, non in una strada privata. Questa palazzina è sotto questa fogna costruita ed è un grosso problema. Speriamo che al più presto intervenga, come dicevo, gli organi preposti, anche perché da venerdì noi siamo senza gas e non mi sembra giusto. Da quanti giorni non avete acqua e luce? Noi da tre giorni che non abbiamo acqua, luce e gas. I lavori procedono lacrimente notte e giorno per risolvere il problema. Gli interventi in corso riguardano il rifacimento del collettore fognario comunale che insiste all'interno di una proprietà privata su cui è stata costruita un'unità immobiliare facente parte del complesso residenziale, spiegano da Girgenti Acque. La causa della fuoriuscita di liquame è riferibile e continuano ancora, non solo al peso della struttura che insiste sul collettore, ma al percorso variato senza dovuta comunicazione rispetto al progetto originario. Alla conduttura interessata affluiscono gli scarichi di via Madonna delle Rocche, parte del quadrivio Spinasante e di via regione siciliana per un ammontare di circa 2000 abitanti. Inoltre precisano dall'azienda che la stessa conduttura raccoglie spiegabilmente acque bianche e nere. Sentita Girgenti Acque hanno garantito che fra 15 giorni i lavori saranno completati, ma voi che cosa chiedete al Comune? Noi chiediamo al Comune che questa fogna esca dalla strada privata di via regione siciliana dal condominio Supergai, urgentemente.